Dottore Seminare, l'Istituto Geoprofilattico è in prima fila nella ricerca dei contaminanti negli alimenti, dei solfiti nella carne, bisogna avere paura? Che cosa fa l'Istituto Geoprofilattico per prevenire? Intanto, anche in questa occasione, grazie ai mezzi di informazione, in questo caso a una rivista specializzata, devo dire, grazie ai mezzi di informazione, alla divulgazione, a tutto quello che è un po' in giro per il mondo, e devo dire, nell'aspetto della globalizzazione è un fatto positivo. Noi siamo impegnati ogni giorno di più per la salute dei cittadini, per la salute dei consumatori. Oggi il nostro campo non è solo veterinaria, salute animale, ma è salute animale, strettamente connessa con la salute e il benessere dei consumatori, dei cittadini, di tutti quelli che quotidianamente comprano prodotti che devono essere rigidamente conciollati e che non è facile, perché oggi c'è prodotti che arrivano da tutto il mondo. Sì, ci sono i prodotti importanti che sono a chilometro zero, ma nella realtà operativa di tutti i giorni le Massai non comprano solo prodotti a chilometri zero, ma comprano un po' di tutto. Io posso dire che in Sicilia, e lo possiamo dire con orgoglio, le ASP, gli istituti zooprofilattici, l'istituto zooprofilattico con le varie sedi distaccate, vigilano in maniera intensa su tutto quello che è gli alimenti, su tutto quello che sono le sostanze aggiuntive, gli ormoni che fanno crescere i prodotti della terra, gli ormoni che ingrassano gli animali da macello. Noi siamo costantemente coinvolti, sempre di più e in maniera sempre più intensa, dalle procure, dai semplici cittadini che ci portano prodotti tipici, che hanno acquistato e che magari hanno reazioni particolari una volta messi in pentola. Siamo coinvolti dai NAS, siamo coinvolti dai commercianti che comprano i prodotti e che anche loro poi subiscono l'andamento di questa catena che per certi aspetti è perversa. Abbiamo un centro di valorizzazione dei prodotti di origine controllata dove aderiscono tutta una serie di consumatori che esibiscono il nostro marchio affinché la gente abbia un ulteriore segnale di garanzia. La Sicilia purtroppo, essendo al centro del Mediterraneo, e quindi oggetto di tutto quello che avviene dal sud verso il nord e viceversa, è abbastanza garantita e coperta. Forse per certi aspetti più dei paesi del centro Europa dove questa malattia non è endemica e che può comportare rischi inaspettati perché magari è fuori dalle verifiche quotidiane di controllo. Quindi un segnale di rassicurazione lo possiamo dare ai cittadini, lo possiamo dare ai commercianti, a chi lavora con grande onestà. Dico di più, noi speriamo di organizzare una giornata di maggio aperta ai cittadini che possono portare i prodotti qua, non so se lo faremo in una piazza o lo faremo dentro l'istituto, dove noi prenderemo i campioni gratuitamente di tutti quelli che vorranno avere una curiosità informata per capire che cosa ha il pomidoro che stamattina hanno comprato, che cosa c'è nelle ciliegie che stanno arrivando, nelle albicocche, nei frutti di stagione, dove la Sicilia è il leader mondiale. Oggi in Sicilia crescono frutti tropicali che dieci anni fa, vent'anni fa, era impensabile. Su questo noi siamo attenti e vigiliamo costantemente. Il segnale è di forte rassicurazione, senza mai abbassare la guardia.